Le piaceva come scrittore? Sì, Camilleri mi piaceva tantissimo, l'ho seguito tanto, forse più in televisione che sui libri. Devo dire che Camilleri ha cambiato l'idea che io avevo della lingua siciliana. La chiamo lingua perché il siciliano è una lingua. Prima la associavo molto ai fatti di mafia, quindi quando sentivo il siciliano per me era mafia. Adesso invece il siciliano mi è più vicino e lo identifico con la legalità. La lingua di Montalbano. La lingua di Montalbano, ma un po' la lingua della legalità perché la legalità è in tutti i libri di Camilleri. Sarebbe contento Camilleri di essere ricordato così.